Il nostro giro ciclistico da Spromonte. Nel settore sportivo un'altra manifestazione che i gioiesi attendevano e seguivano con molto interesse era il giro ciclistico da Spromonte. Nicola Battaglini, Serino Crudo, Anselmo Benedetto, Catalano Antonio e Carmelo Rossi dietro vite nel 1946 alla società ciclistica gioiese. La seconda guerra mondiale era terminata da poco e quindi lascio a voi immaginare lo stato delle strade. I cittadini gioiesi dopo molti anni trascorsi con enormi difficoltà per via del conflitto avevano un grande desiderio di ritornare ad una vita più serena e qui lo sport fu un aiuto considerevole per la ripresa anche psicologica. Nell'imente dopo guerra lo sport ritorna ai tempi pioneristici, affidato in gran parte all'entusiasmo e alla passione ma anche al sacrificio dei suoi atleti. Erano anni di gloria per il ciclismo nazionale. Fausto Coppi vinceva nel 1949 e nel 1952 il Giro d'Italia. Conquistava nel 1953 il titolo di campione del mondo mentre Bartoli trionfò al Giro di Francia nel 1948. Il ciclismo di quegli anni era veramente diventato lo sport che tutti seguivano con amore e passione esaltandosi per le vittorie dei campioni. Nella nostra città la prima edizione del Giro d'Aspromonte è del 1947 e grazie alla tenaggia e all'amore sportivo dei soci e di molti collaboratori furono organizzate nuove edizioni quindi fino al 1955. La partenza era l'obbligo da piazza Matteotti. Il Giro raggiungeva Santo Fima d'Aspromonte e Gambari per scendere a Gallico per continuare sul Sant'Elia e giungere a Gioietauro. 190 chilometri di un duro percorso che metteva a dura prova i dilettanti seniores e juniors iscritti alla Unione Velocipedistica Italiana creata nel 1884. Della fatica di quegli atleti e delle capacità organizzative dei soci tutti rimangono alcune foto che vi ripropongo come testimonianze di vita in una società che tritura ogni cosa alla velocità della luce. E questo mio breve ricordo vuole essere un amaggio a quel grande fresco popolare che è lo sport del ciclismo. Ciao e questa volta anche un saluto da parte di Ettore. Ciao ciao